Il salumiere vide, il mistico di città a cura di Vubbi. Guarda, sta venendo l'arago. Il salumiere vide dalla strada avanzare un uomo magro ma energico, che camminava tenendosi in disparte, rispettoso dello spazio suo e di quello degli altri. Nessuno sapeva molto di lui alla Barenna. Lo chiamavano l'arago, che in dialetto significava lo strano, perché per molti la sua figura aveva una forza indefinibile eppure reale. L'uomo dimostrava circa 40 anni, parlava poco ed era gentile con tutti. Appariva nel quartiere a intervalli regolari, per comprare un po' di cibo e qualche libro. Entrò nella salumeria e si avvicinò al banco. Con calma, in modo veramente magnifico, disse «Vorrei un po' di mozzarella». Il salumiere lo guardò attraverso le spesse lenti da miope. Gli piantò sul viso due occhi come due chiodi minuti. Voleva beffarsi di lui. «A treccia o a bocconcini?» chiese allusivo. «A treccia», rispose la rago e lo fissò negli occhi. Sulle prime l'uomo cercò di resistere allo sguardo, ma poi intuì che quello sguardo gli mostrava una via che lui non conosceva, una via di grandi sentimenti che potevano spingere un uomo verso orizzonti per lui ancora inconcepibili. Pesò la mozzarella e ne fece un pacchetto. Salutò educatamente. La rago uscì dal negozio camminando piano. Ogni volta che tornava alla sua vita solitaria, qualcosa di misterioso avveniva nella sua mente. Le ansie e le inquietudini che lo turbavano nella vita di relazione rigurgitavano come attratte dal basso ed evacuavano come acque sudice. Aveva imparato ad allontanarsi dall'ambiente che gli stava intorno. Aveva poco più di vent'anni quando fu assunto nel museo etnografico e per la prima volta si era concentrato sulla sedia. Era una mattina di fine ottobre, fredda e opaca. Dalla sua scrivania la rago vedeva l'anziana signorina dell'archivio che apriva il termos fumante accanto alla tastiera del computer. La vedeva allungarsi e prendere le fette di pane nella borsa con una sensazione di piacevole solletico che le muoveva tutto il corpo grasso. La sua figura si stagliava in controluce ed era così eccessiva in quel fumo pesante che la rago ebbe voglia di fuggire. Era abituato a scorrazzare con la mente ai confini del mondo fisico. C'era sempre qualcosa di acrobatico e liberatorio in ciò che pensava, ma quella volta, per sfuggire a quelle sensazioni, tentò un esperimento che da tempo lo adescava come un'avventura. Iniziò a concentrarsi sulla sedia. Per qualche minuto rimase immobile e in ascolto. Nella stanza non c'erano rumori, oltre ai gorgoglì della signorina dell'archivio. Di solito a quell'ora il museo era pieno di rumori. Le scolaresche in visita d'istruzione, gli impiegati che uscivano per il caffè, i commessi che spostavano i reperti, ma quel giorno non c'era un fiato. La rago iniziò la conoscenza dettagliata della sedia. Delle parti di cui era composta, del legno di cui era fatta, della sua robustezza, del luogo dove era stata costruita e del lavoro che aveva richiesto, del costo che aveva comportato per l'erario e del grado di comodità che poteva procurare. Si chiese se la sedia era smontabile o no, se il suo stile era classico o moderno, se le era stata data una vernice che ne prolungava la durata. Continuò a concentrarsi sulla sedia sino a quando in ogni piano del proprio essere, da quello muscolare e sensitivo a quello morale e intellettuale, si sentì molto distante dalla signorina dell'archivio. Quello fu il primo esperimento.